Buono? Che stai a far lì? Questa è casa mia? Sai che ti posso sparare? Sai che se ti trovo per strada ti posso mettere la multa perché vai in skate? Ah, sei venuto per la diretta? Non sei venuto per l'edera. Cioè, guarda. Life goes. Cioè, questa edera qua. Che stiamo ancora a fare YouTube. Ma chi ci frega? Ma dopo questi risultati. Sei venuto per la diretta è alle 7, quindi fra poco. C'è una piccola novità. Vediamo sicuramente mi si è bloccato il telefonino qua. Mettiamo la password. Se voi andate su Instagram, su skate therapy, link qua sotto comunque, potete aprire una video chat o magari entrare in diretta, nella diretta se magari apro la diretta un attimo su Instagram e mostrarvi, mostrarmi, ve lo mostrate a voi perché, scusa se lo vedete lì con i vostri occhi, mostrarmi il vostro skate, un trick, fare un balletto, quello che volete per discuterne qua in diretta su YouTube. Quante volte ho detto diretta? Nuove tecnologie. Forse non funzionerà questa idea. Forse sì. Lo vedremo. Vi aspetto alle 7. Mi raccomando, numerosi. Non mi paccate. Cerchiamo di non adagiarci sull'edera e di fare più cose. Mi serve la vostra partecipazione per questo. A presto.